1, 2, 3, tirate! Perché vuoi andare via? Per essere chi voglio. Datemi le mani. Tu vuoi restare qui fino alla morte? Pensi che Gagarin verrà demolita? Spero che non accada. Ho scelto gli Stati Uniti. Mio cugino vive lì. Devi andare così lontano per sentirti libera. Che dovete fare? Rifacciamo l'impianto elettrico, ci occupiamo della sicurezza e non dovranno più demolire. Ma non è così che si ripara un ascensore? Dimmelo tu come si ripara. Mi chiedi i 30 euro che ti devo? Cioè, ci rimango di merda. Per riparare la Cité io continuo a lottare. Gagarin forever! Dopo un'ispezione dettagliata delle installazioni, il rapporto del comitato di esperti raccomanda l'evacuazione entro sei mesi per procedere alla demolizione totale. Cos'è questo posto? È casa mia. Io lo sapevo che rifaccio. Senti, resta con me, ti prego. Qual è il tuo sogno? Qual è il tuo sogno? Qual è il tuo sogno? Grazie a tutti.